Musica Presidente, lei non so nelle città, ma lei ha fatto un altro gran faccio del po' a me. Qual è la motivazione? 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 E si deve solo mettere in un'anno? E si deve solo mettere in un'anno? Bagarri in Consiglio Comunale a Torre del Greco. Tensione in aula questa mattina. Duro scontro tra il consigliere comunale Luigi Caldarola e il presidente del Consiglio Gaetano Fruglio, con l'ingresso in aula delle forze dell'ordine per placare gli animi. Un consiglio comunale delicato che all'ordine del giorno vedeva l'approvazione del bilancio, tema motivo delle accese discussioni in aula. Chiesta la presenza dei revisori di bilancio, richiesta non ascoltata dal presidente Fruglio. Animi accesi sin dall'inizio della seduta, quando Caldarola, Ciavolino e Piccirillo chiedevano il rinvio del Consiglio, richiesta tuttavia disattesa. Dopo le tensioni, i lavori del Consiglio sono ripresi. Non sono mancate le polemiche sul percorso che ha portato all'approvazione del bilancio. Siamo delusi, questo bilancio non ha prospettive di ripresa, non ha ambizione politica. Parole dure, quelle del consigliere pentastellato Vincenzo Salerno. Grazie. Grazie. Grazie.